Il sogno mio, sai qual è l'ultimo sogno di un insegnante? Essere ricordato dai propri studenti. Essere ricordato, lo sai perché Federica? Perché io ora, la mia professoressa di filosofia, che ha ispirato i miei studi, Federica, io mi sono innamorato della fisica grazie alla professoressa di filosofia. Io quando la incontro, professoressa, ti ricorderò e ti ringrazierò per sempre. Lì rimane lì, che mi guarda e vuole piangere in quel momento e trattiene quelle lacrime. Quello è il sogno dell'insegnante di essere ricordato per sempre. Lo sai perché? Perché se uno studente la ricorda per sempre, lo ricorda per sempre l'insegnante, è perché quell'insegnante ha lasciato un segno, un segno dentro di te che ti ha formato e ti ha proiettato verso il futuro. Grazie, vi vieni.